buongiorno finalmente si è rotto io sto amministratore del palazzo sto amministratore del palazzo vi farei amministrare vi farei amministrare queste le minchia fino alla fine loro hanno voglia di sucare suca 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 per loro i valori sono truffare imbrogliare uccidere scassare la minchia succare la minchia questi sono i valori ma che specchio amministratore sia che io rimango fuori io rimango qua fuori mi si rompe la cosa e non devo cambiare la serratura non male che ce l'ho sto testa e cazzo sto fighi suca per farmi godere le cose male questo è come vi dico io ora si leva questo il pistancino ha capito che mi sono sucata sbirri in merda ha capito che siete in buoni sbirri in merda senza levare agli sbirri che io non ho conosciuto o i magistrati o la gente onesta chi sono tutti un pugnico sotto e io gli assassini li tratto di assassino la testa vado a sussatare venne da chi lo caccia amministratore parenti genitori e tutta questa gente in merda un vero che ha incontrato una vita un vero assassino la serratura lo devono decidere loro così io c'è sto fuori questo canale minchia sto pugnico in merda così fare c'è stata la testa manomale c'ho questa che mia madre mi telefona mi dice o vogliela cambiare subito perché lei che perché avevo messo la piscinetta qui avevo messo la piscina perché dobbiamo dobbiamo fare casini perché 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 lei non la utilizza è una cosa che interessa a me e questi sfruttano sta deficiente sta specie deficiente sto parente deficiente sto pugnico di assassino sfruttano e chi si piccica risucare ma la minchia a mia non faremo vivere chi dell'ascensore vengono quando glielo dico io quando ci sono si fanno i turni in base alla cosa dell'ascensore non che vengono quando vengono come era una volta di chiudere le proprietà e ci vivo io non ci vivono queste scasse scasse oppure nessuno nessuno di che cosa nessuno di che cosa nessuno di che perché mi vuoi eliminare dalla mia vita pugnore assassino mario aaaaaaaaaaaahh si questo pugnico di assassino di merda amministratore lo vai a chi che sa amaccia che ci vai? non lo vai a chi sa amaccia sa mi chiede ci lo staccio tutto ma mi dico mi stassocando la cazza mia scu'olio i punti che a me pugnico di assassino di merda pugnico di assassino di merda un'idea di assassini 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 di merda la vita del muratore, dell'amministratore secondo mia madre, secondo i parenti secondo non lo so chi la gestisce cioè i miei cugini che sono come me secondo loro cioè la gestisco io ma è anche dei miei cugini quindi secondo loro secondo loro io dovrei secondo loro io dovrei vivere limitato capito? invece loro possono fare quello che fa l'amministratore il muratore e io con l'influenza e con le cose devo tenere questo così rimango sopra imprigionato rimango sopra imprigionato capito? nel giorno della cosa e io non c'è a spaccare io non c'è a spaccare e non c'è a spaccare e non c'è a spaccare e non c'è a spaccare la testa ci faccio un butto su tanto e i carabinieri e la polizia non sanno niente loro non gliel'hanno mai detto loro sono d'accordo che sono d'accordo? perché ci hanno detto scendomi la volta si pugnisce con un succo così spaccare il cillo e non c'è a spaccare la testa proprio lasciami la porta aperta possono essere sbadati gente che fa così possono essere sbadati no mi sono sbadati sbadati dura un mese sbadati dura un mese gente che fa così sono assassini assassini associate a persone dello Stato persone militari che gli parano il culo che ci parano il culo quindi voglio fare denunce voglio scrivere voglio dire io sono assassini perché se dura un mese sono persone sbadate sono persone scarse se dura anni sono assassini capito? gli aspetti ma Max mi dice io devo lasciare questa quella difettosa così io rimango fuori col freddo col coronavirus guarda che bella questa e si apre quella che ho messo io avanti indietro i comandanti i comandanti su assassini è inutile che sono con la niente sono solo un bugno di assassini di merda assassini siete solo un bugno di assassini è inutile che avevo fatto a defendere dopo le carciabonere era la polizia che avevano a defendere a me era la finanza assassini sì vestito a caramella scarsi scarsissimi perché ancora si è inutile per il tempo che c'è fighissi che amiche assassini di merda ma tu sai come ma tu sai che va in filo tutto a qui a tipo a tipo spiedini va in filo tutto un'ora presa all'aurore ci può mettere magari un papa mi so e me ne sono ispettore maresciallo coglionnello e tutta e tutto su pugno di assassino che state favorendo da anni maresciano 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 ha capito maresciano maresciano questa non è non è la serratura questa è è la maniglia che potete sbattere qua perché non gli mettono un cazzo a potete sbattere qua si ha sfruttato la maniglia si ha sfruttato un meccanismo come se si muove chi vuole sfruttare uno è andato a tunnare questa è educatissima uno che si sta salvando la vita e parla così è educatissimo da anni che mi sto salvando la vita e sono educatissimo perché la maledizione sarebbe proprio strofinargli la minchia nel muso e poi riesce ora passo fai il tuo cavolo sono a 200 metri veniamo a scassare la minchia veniamo a scassare la minchia a sugare la minchia a dire che devo stare a 50 a 40 a 30 a imbrogliare dai forse stai sfruttando andiamo qua che poi sono indicativi i 200 metri non è che posso nascere con un metro e mi sto segnando anche l'orario in cui sono uscito ancora è 10 minuti questo qua vieni di qua pooh 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 andiamo basta pooh